Ciao a tutte ragazze! Oggi anche vi propongo tre outfit diversi per l'abbigliamento pre-mamman. Ciao a tutti! Oggi vi mostrerò tre outfit di maternità per la tua pregnanza. Grazie a tutti! Questo invece è un secondo outfit che può andar bene sia da giorno che da sera per degli eventi magari anche un po' elegantini. Questo è un altro outfit che puoi portare durante il giorno o anche durante la notte per una cena con i miei amici o qualcosa di elegante. Grazie a tutti! Io vi mostro un outfit più sportivo. I'm gonna show you a more casual outfit. I'm a no-one in a small town and to do what I please. I'm a no-one in a small town and to do what I need. I'm a no-one in a small town and to do what I need. Let me show you a little bit in a small town. Tell me I'm crazy Livin' in